A poche ore dall'abbrivio del campionato e dalla sfida al Perugia, la sala stampa del Porta Elisa si è animata con una interessante conferenza, suddivise realmente non solo in due parti. È stato l'amministratore delegato Rairo Faso ad introdurre due nuovi sponsor che compariranno sulle maglie della Lucchese. Si tratta dell'affida di Stefano Grassi, azienda leader nei servizi finanziari e creditizi. Grassi, capello lungo e occhiali e parso anche visibilmente emozionato, lui che è un passato nelle giovanili rosso-nere e che è da sempre un grande tifoso della Pantera. Non è una novità assoluta invece l'apige di Davide Cavalli, particolarmente legato al gruppo Bulgarella, di cui è storico partner specializzato nelle ristrutturazioni verticali. Le maglie a far bella vista di sé e poi lo Faso che fa il punto su quanto operato in questi ultimi quattro mesi. Sono molto soddisfatto dell'operato della società, anche della squadra che ha lavorato dietro la scrivania. Oggi presentiamo uno stadio un po' diverso da quello che era lo scorso anno. E di questo sono molto soddisfatto. La stessa cosa posso dire nella campagna acquisti. Il lavoro fatto in squadra con Alessandro Frara, con Mangiarano e con il supporto e l'apporto di Andrea Bulgarella ci gratifica da questo punto di vista. La seconda parte più tecnica era legata al mercato, ribadito il criterio sulla scelta dei giocatori acquistati, la voglia di Lucchese, le motivazioni e il valore degli uomini. Sulle motivazioni e la voglia di venire a Lucca, probabilmente è saltato lo scambio Rizzopinna-Zambataro con il Lecco. Frara ha vi è più confermato che l'ingaggio in prestito di Filippi Evoada al Verona sancisce anche la chiusura del mercato, almeno per ora. Una lucchese che sogna e che può far sognare. In questi casi si dice anche voler recitare il ruolo di Mina Vagante. Sappiamo che il livello del campionato è altissimo, forse uno dei migliori campionati degli ultimi anni, abbiamo realtà che sulla carta sono superiori a noi. Noi vorremmo recitare la nostra parte dando fastidio alle altre, partita dopo partita, mettendo in campo grandi motivazioni e organizzazione.